Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Rainbow Six con la nuova stagione di Cream Sky Oggi andremo a fare qualche partita su Basic Effort Mi ricordo di seguirmi sui social che per pochi giorni porterò il contest Che non ho capito che cazzo è successo E sto dicendo del contest che in pratica So poco ci sarà un contest e come l'ho spiegato nel primo scorso video Potete vincere un post da moderatore Ok, ora basta chiacchie, concentronoci sulla partita E let's go Oh No, non ci credo La partita è mezza partita andata però Vabbè, mi avevo perso tanto Intanto salutiamo se Se è italiano, non ho le robot Mi modo sicuro non è italiano Dai Guarda quanto mi manca per arrivare a 140 Il pacchetto è sicuro, non me lo daranno infatti Intanto salutiamo Lorenzo Che sicuro è italiano Ragazzi raccontatemi nei commenti di com'è l'inizio della scuola Perché A me è stato tragico Oddio Dobbiamo proteggere il contenitore di mio rischio Vai Parichiamo Buono Ragazzi vi consiglio di vedere il video di domenica Perché Perché È un video Importante Ragionerò un po' di cose sul canale E Niente Per il drone del cazzo Vira Alibi Vabbè Ah ma Ah Bello Bello Che cazzo è Con la revolve Aspetta Ci penso io Farò un po' del male Sorry Voi iscrivetevi nei commenti Cosa vi è uscito nel pack prime Sempre se l'avete Sempre se l'avete fatto all'accesso Perché sono Mi ricordo di Guardarvi il video Che nella scheda cliccabile Qui sopra In altro A destra A sinistra Per vedere Lo scorso episodio Di rainbow Poi ci sarà Un altro video Di rainbow Però Prossimamente Sempre Di Della mia classificazione In green sky Contenitore di più rischio individuato Raggiungetelo Io rinesco a capire Stanno nei camera Stanno in questa qua So Ok Loro stanno qui sotto Guarda l'oranzo Dai Loro Oh ma che cazzo Non ci credo Mi ha fatto con la pistoletta Doh cari Ti prego Credo in te Ti do la forza Dell'ultra estinto Dai Oh Grande ieri che gli è grande d'occa e b vedi la mia forza di l'ultoistinto cambia cioè cambia funziona dai dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio comunque siamo sempre sotto bravo nel cazzo di forza qui a campeonato vediamo dove stanno Ma non so fare legame questi Quello proprio Cazzo sta avanti Ancora mi spoglie manco la mina Poi ci hanno messo la mina Via Qui Adesso in ferimento No non ci credo Non ci credo Qui Dai ragazzi Che cazzo Sono peggio cancri qua Che mazzo Non si corre nei corridoi Go Dai No non ci credo Ho pure detto Capcan Che cazzo Sono secondo Due chili ho fatto Vigili Deve andare sotto Ti prego Anche se hai venti di vita Pure tu Capcan Ma brava Capcan Perché Non ci credo Non ci credo Tu vicina Alleluia Grande Oranza Morta cavera Spaccate qua Nessuno che viene qua Nessuno Nessuno Vabbè Tocca fare il giro Spacca qua Non ce la Vincere lag Tornate a occuparvi Ottenete il contenitore Tornate a occuparvi Del contenitore Smettete di difendere la stanza Sono un nemico Merda La smirata Cazzo è rimasto Di qua Ma pure Il tumore Un operatore Alleato rimasto Attaccante Neutralizzato Merda Due a due Rega Due a due Ma perché Capitava Sto già Metà vita Vià 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 Stai Eh Buongiorno Merda Del cazzo Quattro morti Sei kill Dai Pure io Insieme a Però sono di 100 punti In più Sono di 100 punti In più Abbiamo perso GG Io che potevo diventare il primo Di peggio La squadra d'attacco non ha preso il settore di più rischio Casto del cazzo Chi c'è è rimasto? Casto del Capcom? O casto del Vigil? Che livello è? Aspetta Poi mi so Che livello è? Qui ha Quitti Più Che Quitti 176 E ho fatto Ho fatto 5 morti Appendando i pacchetti Dimmi Dimmi Che E niente Raga E questo è tutto Lasciate like Iscrivetevi Condividetelo A vostri amici In mio canale Che è Molto importante E Prossimamente Ci sarà pure Lo shop Dei Due Operatori Crash E Crash Maverick Tra Un giorno E 22 ore E Niente Mi raccomando State buoni Noi ci vediamo Ai prossimi video Bella Ciao Doi Lo somone Costa Lo como Doi Doi Ave Grazie a tutti.